Volevo chiedere solo una cosa a chi vuole farci tornare al nucleare e sostiene che è sicuro, mentre oggi e per i prossimi 70 anni si continuerà a morire per le conseguenze di Chernobyl, hanno calcolato un milione di persone. Poi c'è Fukushima e tutti i morti che verranno. Io non so se credete o no in Dio, ma volevo chiedervi questo. Ma ce l'avete una coscienza? E c'è spazio per tutti questi morti? Grazie.